Napoli, la cultura napoletana, ha un rapporto particolare con la morte, che è un rapporto fatto non di repulsione, ma fatto di vicinanza, di prossimità. Anche in questo Napoli mostra la sua natura accogliente. Juanema vuole appunto, aprendo una serie di ipogei legati al culto delle anime pezzentelle e attraverso un'offerta culturale molto variegata, che va dalla musica al teatro, al cinema, vuole provare a riproporre ai napoletani e ai turisti che sono a Napoli questa particolarità dell'identità culturale napoletana. Si terrà dal 28 ottobre al 1 novembre la seconda edizione della Festa degli Altri Vivi, con visite guidate in chiese e ipogei e aperture straordinarie serali e notturne, nei luoghi che conservano la memoria del culto delle anime del Purgatorio, in programma spettacoli musicali e performance teatrali, danza e maratone cinematografiche. Oggi proprio comincia, il 24 ottobre comincia il cosiddetto novenario dei morti, cioè un tempo a Napoli la festa cominciava addirittura il 24, che era una vera e propria festa, chiamiamola così, e quindi in quanto festa si è deciso di riorganizzare un'altra volta la festa. Bisogna dare molto senso a questo, cioè un tempo i luoghi a Napoli nascevano sui corpi, ecco questa è una cosa che dobbiamo ricordare, i posti importanti a Napoli sono nati sui corpi e noi di questi corpi vogliamo continuare a parlare.